Ormai sono venuto a trovare nonno visto che non sta tanto bene, eh mio nonnino ragazzi Oh nonno, allora com'è? Tutto a posto? Ti vedo bene, dai insomma Oh, mio nonno, bene bene, si va avanti, si tira andà Eh nonno mamma mia, ti vedo bene bene, ma proprio il ritratto della salute eh Sì, sì, abbastanza, dai, si tira andà, si tira andà Eh senti, dicevi una cosa, ma il dottore è passato? Sì, a proposito del dottore, mi devi fare un piacere Mielino Eh dimmi, dimmi nonno, ci penso io Mi dovresti mettere qui sul comò, o dopo, insomma, ne ti pare Un preservativo e 50 euro Perché? Ma, uno so, passato il dottore ieri parlava all'infermiera Guarda a me e mi ha fatto Dottoressa, questo qui domani va a puttane Ha 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 ha